12 severi e inflessibili occhi in più, 12 semafori nuovi di zecca per vigilare sul rispetto delle regole di chi siede al volante o al manubrio di un qualsiasi mezzo di locomozione che si trovi a transitare in piazza Duca d'Aosta e in viale d'annunzio. L'arruolamento effettivo dei 12 nuovi T-RED, i semafori con telecamera a chiappa scorretti, avverrà entro fine settembre o al massimo i primi di ottobre. Dunque, infrangere le regole potrebbe tradursi non solo in una multa cospicua da 167 a 666 euro, ma anche nella decurtazione di punti dalla patente. Nel momento in cui c'è sul semaforo il segnale del giallo, la cosa migliore è fermarsi, in quanto ci sono poi 4 secondi di tempo per attraversare l'incrocio. Però il suggerimento è quello di stoppare la macchina o lo scooter, quello che è, al segnale del giallo. Vogliamo dire anche le biciclette? Anche le biciclette, è importantissimo. Perché non si ricorda mai che le biciclette seguono le stesse regole degli altri? Assolutamente sì, anzi, sarebbe la cosa più importante proprio che le biciclette rispettino le regole, non camminino sui marciapiedi. Allora, fermarsi prima della linea, perché i sensori di questi T-RED verranno posti sulla linea di arresto, che è quella, che non è subito sotto il semaforo, ma è prima del semaforo. Fermarsi prima della linea al giallo significa non passare con gli pneumatici sul sensore e quindi non poi innescare quel procedimento che porterà alla sanzione? Assolutamente. Allora, il T-RED viene posizionato proprio sulla linea bianca, dove c'è il confine tra il T-RED e il semaforo. Lei ha parlato di linea bianca, questa è un po' scolorita, ci si penserà? Sicuramente nel momento in cui saranno attivati questi nuovi semafori sarà fatta tutta la segnaletica, perché non vorremmo che la gente magari ci dica che mettiamo i semafori, però non abbiamo le strutture giuste e quindi la segnaletica a terra sarà rifatta. I maligni dicono che questo è un sistema da parte dei comuni per fare cassa, un po' è così o per niente? Tutt'altro, perché il comune non si attiva, non mette questi semafori per fare cassa, ma bensì per la salvaguardia dei pedoni. Come vedete, i pedoni attraversano tranquillamente quando i semafori funzionano regolarmente. In quel semaforo di fronte il tempo per attraversare una strada così larga è molto ristretto, si arriva pur camminando insomma di lena a poco più di metà. Forse vanno anche rivisti un po' i tempi di attraversamento sulla base dell'ampiezza della strada? Assolutamente, questo è un lavoro che nel momento in cui saranno attivati i TRED si rivedranno anche i tempi per gli attraversamenti dei pedoni.